Sono Pierluigi e sono uno dei due cofondatori di Agrigola Moderna, iniziativa che è nata nel 2018 e si occupa di vertical farming. I giovani come noi hanno un ruolo fondamentale per la transizione sostenibile dalla scelta dell'acquisto dei prodotti alla scelta di dove andare a lavorare, quindi andare a lavorare in aziende che abbiano questo tipo di missione e visione, fino a eventualmente fare delle attività che possono andare a portare un tassello di miglioramento nella filiera produttiva o distributiva della catena del cibo.